Ciao a tutti, in questo nuovo video di Quadricottero News con le immagini fornite dai Vigili del Fuoco vi parleremo delle operazioni nella provincia di Perugia, in seguito alle scosse di terremoto che si sono verificate ieri. Finora sono stati effettuati 90 sopralluoghi tecnici e verifiche di stabilità su edifici, riscontrando danni di lieve entità alle strutture, microlesioni e parti pericolanti che sono state rimosse. Attualmente, otto squadre dei Vigili del Fuoco con il rinforzo di 31 unità sono attive nelle zone di Umbertide, Cenerente e Pierantonio, mentre dal tardo pomeriggio c'è stato il raddoppio dei turni per il comando di Perugia. Questa mattina, il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inviato sei tecnici esperti nella valutazione di edifici con dissesti statici. Inoltre vengono utilizzati anche droni per verificare in altezza gli edifici lesionati. Stiamo vedendo, un drone DJI-M300 condotto dal nucleo piloti dei Vigili del Fuoco. Come si nota, è dotato di gimbal camera Zemmuse H20 che integra una fotocamera grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera zoom da 20 megapixel, una termocamera radiometrica e un telemetro laser. Il drone viene gestito da due radiocomandi con monitor integrato, uno per il pilota e l'altro per l'operatore camera. In questo caso è stato impiegato per verificare il campanile della chiesa di Pierantonio con l'individuazione di una lesione. Grazie per l'attenzione, fai sapere cosa ne pensi nei commenti e se non lo hai ancora fatto iscriviti al canale. Ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News.